Anche nell'ultima puntata si sono perse le tracce di Paolo Fox, che ha continuato ad essere assente nel programma, saltando la sua consueta rubrica sull'oroscopo della settimana. Nella storica piazza rimane il dubbio di qualche caso di positività, che forse abbia colpito anche il famoso astrologo. La RAI al momento non si pronuncia, né tanto meno i conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi hanno detto qualcosa sulla sua assenza. Cosa sarà successo? Attendiamo notizie dallo stesso Paolo Fox su questa assenza, che tutti sperano si pronunci in prima persona per risolvere questo mistero.